Sviluppatori, programmatori, manager ed imprenditori di tutta Italia a confronto sulle più recenti frontiere del business digitale. Arezzo diventerà così per un giorno la capitale dello shopping online. Il commercio ha aiutato tantissimo il processo di vendita perché siamo arrivati in Italia almeno al 20% del venduto attraverso online. Il convegno nazionale Shopify Edition Summer 23, promosso dalla multinazionale canadese Shopify, per la prima volta sarà in Italia in modalità in presenza e farà tappa in città il prossimo 14 settembre. Ci saranno delle sorprese eccezionali soprattutto sui nuovi trend dell'intelligenza artificiale, l'omnicanalità e il B2B. Ad Arezzo un vero e proprio laboratorio dedicato all'approfondimento di tematiche all'avanguardia, sempre più fondamentali. Sono già diversi anni ma soprattutto dalla pandemia che ci stiamo focalizzando su promuovere l'innovazione tecnologica alla nostra platea, quindi alle nostre imprese perché chiaramente in questo momento d'altronde l'innovazione corre, viaggia e per un'impresa è molto importante essere o non essere presente su piattaforme, poter anche proporre servizi nuovi che non vuol dire sostituire la fisicità del negozio ma vuol dire avere un doppio canale che può permettere all'azienda di essere conosciuta e di lavorare di più.